Musica Non si arresta l'ondata di criminalità che sta colpendo il capoluogo in questo periodo. Dopo l'attentato di Nami Tardo fatto esplodere in Piedocentro l'altro ieri pomeriggio in Corso Giannone, ieri mattina intorno alle 4.30 una bomba è esplosa davanti alla pizzeria da Massimo in via Marchiano. La deflagrazione ha causato danni alla sala cinesca dell'esercizio commerciale. Il boato ha spaventato i residenti del quartiere. Sul posto una volante della polizia e una squadra dei vigili del fuoco. Notevoli i danni subiti dalla pizzeria. Manfredonia continuano i sequestri di pesci vendoli abusivi. Due denunce. Continua incessantemente l'attività di repressione posta in essere dai militari della Guardia Costiera di Manfredonia nei confronti della pesca e della commercializzazione contro le gemme dei prodotti ittici al fine di tutelare sia i consumatori che l'ecosistema marino. Sabato mattina infatti è stata eseguita, condotta un'operazione congiunta via terra dal nucleo di Polizia Guardia Costiera della Capitinea di Porto di Manfredonia e il personale del Comando di Polizia Municipale durante la quale i militari intervenuti lungo le arterie cittadine o viene commercializzato prodotto ittico in dispregio alle più comuni norme igienico-sanitarie hanno sequestrato oltre 70 kg di prodotto ittico di cui 50 kg di nove lame che sono stati prontamente identificati e deferiti alle competenti autorità giudiziarie e i vari ambulanti abusivi. L'operazione è stata condotta in comparabolazione con il servizio sanitario del distretto di Manfredonia che ha subito sequestrato il prodotto e distrutto mediante conferimento a ditta specializzata in seguito al cattivo stato di conservazione dello stesso. L'Archeoclub di Siponto organizza i percorsi della memoria passeggiata nella storia del territorio. L'Archeoclub di Manfredonia il giorno 29 agosto ha organizzato un raduno in piazza Santa Maria Regina di Siponto per poi iniziare una passeggiata attraverso il sentiero del parco archeologico. Dopo il ritorno in piazzetta e visita gli ipogei del museo etnografico. Il tutto termina alle 19.30 di venerdì 29 agosto. Calcio d'agosto, amichevole di Manfredonia, pesante sconfitta a Trani. Pesante sconfitta per il Manfredonia sul campo del Trani. 3-0 il punteggio finale a favore dei padroni di casa che hanno avuto la meglio su una squadra che per la prima volta in questa stagione ha affrontato un avversario più blasonato. Badacca e Di Toro non sono preoccupati e sono convinti che la squadra c'è ed ha una gran voglia di fare bene. In settimana quasi sicuramente il club Sipontino tornerà su un mercato a caccia di difensori di categoria. Intanto ora si conosce l'avversario di Coppa Italia ed è il Torricuso che ieri ha piegato l'Arzanese per 3-1. Il Manfredonia quindi giocherà in trasferta domenica 31 agosto. Il Manfredonia quindi giocherà in trasferta domenica 31 agosto.